ciao a tutti questa notte la apple ha rilasciato la nuova versione logic pro 10.7.8 non sono tantissime le novità è più un aggiornamento di compatibilità per ipad però c'è una cosa che ho notato che è veramente importante per risolvere quei problemi in cui non riusciamo ad aprire un progetto che ha plugin di terze parti mi è capitato tantissime volte che mi arrivino progetti con plugin di terze parti che non ho da parte di clienti o amici o che questi plugin di terze parti siano stati scaricati in maniera non corretta o che non siano stati aggiornati e di conseguenza l'unico modo che avevo per far funzionare i progetti e il mio logic era quello di far partire logic doppio clic questa è la versione 10.7.7 questa è la nuova versione 10.7.8 vi consiglio sempre di prima di aggiornare logic di fare un backup della versione originale semplicemente duplicate con command d il logic pro originale e lo rinominate con la versione che avevate prima dell'aggiornamento perché il come ho già spiegato in un altro video la versione logic pro originale e ultima aggiornata è sempre quella quel nome originale comunque vi rimando un altro video ci sono molti modi per risolvere i problemi con i progetti che non funzionano uno di quelli è avviare logic doppio clic e tenere subito dopo premuto control in questo modo io posso avviare logic senza avviare il core audio adesso vedrete che mi compare una finestra che mi dice vuoi avviare il core audio e li dico di non lanciarlo ed ecco che logic mi parte praticamente senza il core audio abilitato e questo mi aiuta a risolvere quei problemi dove non ho i plugin che fondamentalmente non mi fanno partire logic io adesso ho creato un progetto dove ho messo un sacco di plugin di terze parti con la versione 10.7 con tutti questi plugin di terze parti di cui oltretutto voglio parlare in prossimi video tutorial perché ho trovato dei plugin che sono veramente molto interessanti tipo questo amplificatore di chitarra tipo la ugem che ha fatto queste batterie fighissime ma immaginate che voi avete questi progetti qua e non riuscite in nessun modo a farli partire c'è proprio logic che è in crash apro questo progetto anche con logic pro 10.7.7 per farvi vedere che è un progetto completamente compatibile anche con versioni precedenti di logic prima devo chiudere il logic l'ultimo release 7.7 ed ecco che potevo fare fino a ieri ok ed ecco che mi si avvia con tutti i plugin io ho tutti i plugin originali fino a ieri se avevo problemi con questo progetto l'unica cosa che potevo fare era fare doppio clic sul progetto e invece cosa posso fare doppio clic sul progetto tengo premuto control subito dopo quindi prima vi ed ecco che adesso posso lanciare e non lanciare il core audio come prima ma posso anche lanciare logic disabilitando gli audio unit di terze parti guardate qua launch without audio unit e cosa farà logic si avvierà mi aprirà il progetto dicendo che non ho determinati plugin ed ecco che me l'ha avviato disabilitando tutti i plugin di terze parti questa è una cosa fighissima perché questo mi permetterà poi di disabilitare tutti i plugin che non funzionano no plugin no plugin no plugin e ec 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 un consiglio che vi do a tutti voi questo problema qua ce l'avrete principalmente se avete impostato all'avvio sotto logic pro setting o preference general start up action open most recent project io vi consiglio di mettere do nothing così facendo ogni volta che voi avviate logic io avvio logic logic si sta avviando e non farà niente sarò io a dirgli cosa fare sarò io a dirgli aprimi questo fai un nuovo progetto da un template e via dicendo insomma questo nuovo aggiornamento secondo me ha portato questa questo grande vantaggio di poter avviare logic il progetto doppio clic tengo premuto control ed ecco che lanciamelo senza audio unit e questo mi toglierà parecchie castagne dal fuoco ci vedremo nei prossimi giorni per altri dettagli su questo nuovo aggiornamento secondo me di passaggio verso un aggiornamento massivo di logic buona giornata seguitemi e per chi vuole approfondire ovviamente c'è il mio libro disponibile in sei lingue buona giornata e a presto ciao